Sarà possibile o no fare un computer consapevole? La macchina non ha il profumo della rosa, non sa neanche cosa dice, perché non ha senso di sé, non sa di essere una macchina che esiste. Una macchina che sapesse riconoscere il profumo di una rosa è una macchina che ha dei riconoscitori di molecole, quando queste molecole sono riconosciute tra i segnali elettrici, a questi segnali elettrici viene corrisposto un nome rosa. Noi le situazioni le capiamo appunto perché abbiamo questo mondo di feelings, di sensazioni, di sentimenti. Quindi lei è consapevole che l'uomo non farà mai una macchina, dico simila con l'uomo. Parliamo di un sistema fondamentalmente diverso, un sistema riduttivo del computer, è un sistema orlistico che è la vita. Seguite le inclinazioni che avete, perché sono proprio le vostre inclinazioni dentro di voi e vi dicono la strada da seguire, non seguite la strada che vi dice il cervello, ma la strada che vi dice il cuore.